Allora Mattia senti, un punto guadagnato secondo te, anche se alla fine voglio dire l'Andri ha provato a vincere, ma il Cosenza ce l'ha messa tutta? Sì, è stato un punto guadagnato, è anche sofferto, siamo molto contenti di portare a casa questo risultato perché non era assolutamente un campo facile da affrontare, si è visto nel primo tempo, abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo però il secondo tempo abbiamo approcciato benissimo la partita, io penso che il punto sia meritato. Cosenza più quadrato del solito continua a crescere e a portare non solo risultati positivi ma a migliorare anche nella sua autostima e in questo gioco collettivo? È chiaro che i risultati portano autostima, senza i risultati l'autostima non viene da sola sì, stiamo attraversando un buon periodo, stiamo iniziando a diventare un'ottima squadra secondo il mio punto di vista poi le cose ci girano bene in questo periodo, prima ci giravano male, adesso ci girano bene stiamo continuando a crescere e credo che cresceremo ancora